Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per lavori tra B1 Variante e Calenzano verso Sud. Sempre in A1 provenendo da Bologna, coda in uscita a Firenze Sud per incidente. In A11 coda attratti per traffico verso Firenze, tra Prato Oeste e il Bibio con l'A1. Qualche problema in Fipili per lavori, 3 km di coda verso Firenze, tra Empoli ed Empoli Est, in carreggiata opposta, coda di 1 km tra Ginestra ed Empoli Est. Per gli stessi lavori, l'entrata di Empoli Est è chiusa verso Firenze fino al 22 novembre. Siamo al traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana, con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in via Bugiardini, quelli alla pista ciclabile in via Pio Fedi e un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Corbignano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Buona versine Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.